In occasione del novantesimo anniversario, Detlef, storico produttore tedesco di veicoli ricreazionali, presenta per la prima volta in assoluto il suo primo camper van. Questo camper van per Detlef è un passo veramente importante, perché da oltre 30 anni Detlef è il maggior costruttore europeo di camper van, ma fino ad oggi non era mai stato commercializzato con il proprio brand. Il Globetrail 640 è più di un semplice furgone attrezzato, esterni dal design sportivo con la cattivante grafica che lo rendono ancora più piacevole, paraurti verniciato nel colore del veicolo, completato da un'ampia veranda che permette di godere anche dello spazio esterno, ben ottimizzato negli interni, infatti, gli spazi abitativi sono stati sfruttati in ogni dettaglio. Le principali caratteristiche di questo veicolo sono ai massimi livelli, in termini di coibentazione, qualità, abitabilità e spazio di stivaggio. In poche parole, questo veicolo è stato progettato da persone che conoscono benissimo le esigenze del cliente. La pianta interna ben organizzata si sviluppa su di una lunghezza di 639 cm con letti gemelli in coda e servizi nella parte centrale. Blocco cucina due fuochi e lavello integrati in acciaio inox, con ampi cassettoni sottostanti senza maniglie molto capienti, un utile piano di lavoro e frigo a compressore da 87 litri con apertura della porta accessibile sia dall'esterno che dall'interno. Il tutto è contrapposto alla zona toilette con doccia integrata, mentre nella parte anteriore si estende una comoda di netto con tavolo centrale estensibile integrata alla cabina guida che grazie ai sedili girevoli può accogliere anche quattro persone a tavola. Il letto di questa pianta è di grandi dimensioni. Nella parte sottostante viene alloggiato un armadio di ampie dimensioni. La zona bagno di questo veicolo è estremamente fluibile. Il piatto dolce è dotato addirittura di doppia piletta che permette lo svuotamento in qualsiasi condizione. Altra caratteristica del bagno è la porta a serranda extra large che dà un enorme senso di spazio. L'ottimo abbinamento dei colori, l'alta qualità dei tessuti delle tapezzerie e una solida lavorazione del mobilio interno fanno del Globe Trail un vero Detlefs. Una caratteristica importante di questo veicolo è la possibilità di suddividere il letto posteriore in due terzi e un terzo. Questo permette in questo modo di sfruttare per esempio un terzo per usarlo come garage e quindi inserire una bici e due terzi per poterci tranquillamente dormire. I pensili di serie posizionati sopra i portelloni posteriori offrono un aggiuntivo spazio di stivaggio e sono illuminati indirettamente. Un'altra importante caratteristica di questo veicolo è la coibentazione. Infatti è dotata di filtro anticondensa. Per quanto riguarda lo stivaggio, il veicolo è dotato di ampie botole e sottostanti la dinette, un'ampia cappelliera comoda e funzionale. Dotazioni di lusso anche nella cabina guida, previsto anche il precablaggio per pannelli solari, telecamera retrovisiva, tv e sistema satellitare. I cerchi in alluminio e la griglia del radiatore sono verniciati in nero. Questo veicolo Detlefs è su meccanica Fiat, 120 cavalli di serie che può essere come optional, 140 e 160 cavalli, è lungo 6,39 metri, largo 2,05 metri e alto 2,65 metri. Globe Trail 640, il primo camper van firmato Detlefs.